Jingle Spot www.pronosticoonline.com rubriche, pronostici e consigli per passare alla cassa L'ennesima tappa di una stagione fallimentare. La sconfitta con la Sampdoria si incastona perfettamente nell'annata della Lazio, fatta di delusioni e umiliazioni in serie. Adesso i bianco celesti sono non in classifica, il Chievo a pari punti è ottavo perché ha la sua il vantaggio negli scontri diretti, ha vinto 4-0 al Bentegodi e perso 4-1 all'Olimpico. Se il campionato finisse oggi, la Lazio sarebbe costretta a disputare i preliminari di Coppa Italia e a scendere così in campo a metà agosto. Non solo, arrivare in Oni vuol dire incassare 3,1 milioni di euro contro i 4,3 dell'ottavo posto e i 5 del settimo. Un danno economico non da poco. Inoltre, help Serie A, help Premier League, help Liga, help Bundesliga, tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti, partita per partita, per passare alla cassa. Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente.